Oh, Franchi, Franchi, c'è un video nella GoPro che è fantastico Ma ho sentito che... Allora niente, non ce l'ho... Wow! Wow! Woohoo! Wow! 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 Quattro sei matto sei matto dai è accesa no? si si non l'ho mai spenta porca troia a 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 allentate dietro allentate allentate morto a 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 trompo trompo a 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